Ciao a tutti! Ancora mi sono messo in divisa da combattimento, visto anche l'argomento che andremo a trattare, che è quello che è un argomento che molto probabilmente mi sentirà una fila di brutte parole e anche a qualche d'un magari che vennerà la luna. Allora, l'argomento è il comune unico della Busa, della nostra Busa. La settimana passata la Comunità delle Valle l'ha organizzata una serata sul tema proprio comune unico del Baciosarca. Il giornale riporta che era soltanto 15 amministratori locali contro i 120-130 che normalmente dovrebbero essere quelli che compone i vari consigli comunali della zona. Allora, quello che mi fa specie però è che a parlare di Arco e di Riva, che si sta il sindaco di Varena in Val del Fieme, 771 abitanti. Insieme che era il sindaco di Fondo in Val del Nom, 1422 abitanti. L'altro, l'era il sindaco di Comano Terme, questi chicchi che hanno subito dopo le sarche, 2944 abitanti. L'altro l'era uno della Val del Lede, non so se l'era un consigliere comunale, uno che è passato da lì quella sera lì, l'ha detto, parlo anche a me, 5455 abitanti su 7 comuni unificati di tutta la Val. Allora, il sindaco di Arco l'ha scritto sul giornale, che è scritto anche qua, guardate qua, è proprio la testimonianza, l'ha detto che la popolazione l'è pronta al grande passo. Non so con chi l'ha parlato, l'Alessandro Nostrano, forse con quelli dell'addolorata del Bolognano quando fa la festa lì, l'ha detto la Cesa. Oppure, anche il sindaco di Teme l'ha detto la sua, il dico pure, l'è un'opportunità la quale bisogna iniziare a ragionare, ma lui sotto sotto dovrebbe mettersi di più con Fiave, con Campo Lomaso o con la Quadra, visto che l'è più comporta verso la montagna. Il sindaco di Riva, invece che l'è puttaiata di tutti quanti, perché il Mosaner, pensi voi di ingabbiarlo, l'ha detto, l'ha detto, il giornale, l'ha detto che l'ha detto che l'ha detto tiepido e sorgnione, in poche parole l'ha fatto finta di niente, l'ha detto lì quella sera lì, l'ha ascoltato, l'ha detto gli altri e dopo l'ha detto via. Allora, non voglio entrare nella discussione con personaggi di questo alto spessore politico, che volevo arco, per l'amor di Dio, non voglio neanche sapere, però mi volevo dire anche qualcosa, volevo dire anche la mia, però mi ho una colpa massagrossa, questa qui la mia colpa è veramente una roba fuori dal normale. Mi sono nato a Arco, sono di Arco, sono stato a scuola con il maestro Fiorioli e nella classe ero con tutti i rimanghi su di Stranfor, ero una classe, ho conosciuto l'Eli Dosevion, l'Ottavio Costantini, il Tita, l'Ottavio e il Salvatore, quei che tira il caret del ricovero, ero amico del Gianni Monco, ho conosciuto il Kassam, quei che aveva il formai con il banchetto, il formai in piazza, i gavati e gavati, quei che aveva il banchetto lì davanti al marchetti che ne avevano a rubare i mondi prima di andare a scuola, il fotografo bancalari che era qui in Ferrera, il tecchi, il tecchi era il facchin che portava le valise dalla stazione che quando veniva scampeva in tutti quanti perché ne feva paura. Insomma, sono nato a fare il bagno a Pravi nel Fitom, insieme al Carletto, al Vinicio, al Passafort, tutti i bar di Arco, perché erano gli embriagoni, perché ne piaceva la compagnia, se stavo al Portico, al Gallo, alla costa, fuori alla Svizzera, avevamo frequentato il Kral, se stavo persino alle Atli. Insomma, mi sono massa di parte, anche perché così non sono massa contento che si mette insieme qui di Arco con tutti quegli altri che intorno. Da mio punto di vista mi piaceria restare per conto mio, però non conto assolutamente niente. Però i politici, secondo me, bisogna che si metta d'accordo, perché nel stesso giornale, nel stesso articolo del giornale, nella stessa pagina, il Mauro è l'unico parlamentare che abbiamo a Roma, no? Il dice di fare due comuni. Riva, Torbole e Tem, Arco, Drò e Drò. Allora, mi sarebbe anche più propenso a andare verso Nord, verso Drò. Anche perché, non per niente, no? Ma Drò è l'unico della zona che ha la squadra di calcio in Serie D. E dopo, una cosa che porta più a favore di loro, è il paese della Brugna. Adesso, l'età la conta, però è il paese della Brugna che ha sempre una sensazione più positiva. Allora, però, mi sono fatta anche una domanda, tra tutti questi articoli che è qua, no? Mi sono fatta anche una domanda. Ma, secondo voi, secondo ti, secondo me, secondo quel che è lì al circolo pensionati, se ti ciappi 6.938 euro al mese, ma che vado a fare il covude con quel deriva, o viceversa quel deriva che ciappa stessi soldi con ti, che dopo uno dei due sta a casa? Ma se diventa male, mi se fosse il posto suo, non lo faria mai. Mi tiro il B600, 6.938 euro. L'ordi, mi raccomando, eh, potrei ricordare l'ordi, no? E che ciava tutti quanti. Favamo una bella commissione, come i figli dei democristiani una volta, discutiamo, non due anni, tre anni, quattro, continuiamo a discutere del Comune Unico, però certamente non fa niente. Anche perché, dentro, dentro qualche giunta di chi, dentro della Sen, che ciappa, 2.775 euro, io ciappa, dove voto, 10 voti, vuol dire, 275 euro ogni voto, no? Vuol dire che questi qua, vuol dire niente a casa. Fende il Comune. No, no, sta lì, tranquillamente, farà altre belle, il valandolo farà altre belle riunioni la sera, belle discussioni, e molto necessarie, però credemi, vale, non mi farà niente. E questo mi tranquillizza, perché mi stavo bene in questa maniera qua. Allora, secondo me, secondo il Carletto, secondo il Vinicio, secondo il bel Pipaia, che avevano fatto una consulta una sera di fronte, ero io che bevevo anche un bel bicicletto di terodio, avevano detto, ma cosa pensi del Comune Unico? E loro mi hanno detto, se il sindaco, l'assessore, tutti quanti, io lo faccio per niente, io lo faccio in due minuti, ma se si comincia a fare 6 mili, aspetta che voglio guardare, 6.938 euro al mese, 2.775 euro, ti puoi stare qui una vita. E allora, ecco che bello, questo è l'unico motivo per il quale noi stiamo tranquilli, restiamo Arco, loro restiamo Riva, con la pace di tutti quanti. Alla prossima e auguri al Comune Unico, che dopo ci diciamo, Arco, Riva, Riva, Arco, Stem, Drodrena, San Giorgio, Torbole, è lo stesso. Finché noi andremo a lavorare per niente, non faremo mai niente. Grazie, alla prossima. Grazie.